Gli italiani amano il turismo enogastronomico, tanto da farlo diventare motore della vacanza made in Italy con un fatturato di 5 miliardi. È quanto emerso nel corso dell'incontro l'Italia che piace nell'estate 2012, il turismo ambientale ed enogastronomico, organizzato dalla Coldiretti insieme alla Fondazione Univerde. In tempo di crisi, gli italiani scelgono la vacanza verde all'insegna della riscoperta dei territori e dei prodotti tipici. Posto ideale e prediletto ovviamente è l'agriturismo, una scelta che ha riguardato quasi la metà degli italiani negli ultimi 5 anni. A mettere in luce preferenze e scelte, il secondo rapporto gli italiani e l'agricoltura realizzato da IPR Marketing con Coldiretti e Fondazione Univerde, presentato nel corso dell'incontro, da cui principalmente emerge la voglia di vacanza e luoghi immersi nel verde, tranquilli, in cui degustare cibo locale e soprattutto sicuro. Gli agriturismo soprattutto incontrano particolarmente il favore degli italiani e sono un modo di fare turismo in ascesa sicuramente. Abbiamo questo dato della maggioranza assoluta che se deve immaginare un turismo in campagna immagina l'agriturismo come modo di immaginare la propria vacanza. Un elemento importante è anche il cibo, il cibo è molto importante rispetto a questo riconciliarsi con la natura, con la produzione della terra. E quindi abbiamo quasi tutte le domande che abbiamo fatto, l'elemento cibo, l'elemento qualità del cibo, l'elemento del cibo prodotto localmente, è un fattore di forte attrazione. Dobbiamo sfruttare di più in termini di giacimenti, di tesori, insomma tutta la nostra bellezza, la nostra diversità, a partire dal cibo che Coldiretti oggi presenta, in termini di diversità, in termini di straordinaria conoscenza, esplorazione di ciò che c'è sul territorio. Magari non troviamo negli stessi scaffali del supermercato, andiamo in campagna e ne siamo invece protagonisti, in termini di conoscenza rinnovata di biodiversità e di culture, di prodotti che magari scopriamo anche costano meno rispetto a quelli che vengono da lontano, ci offrono meno sicurezza, meno genuinità e portati a tavola invece tornano a presentare gusto e sapore. Il dato di confronto con cui dovrebbe essere letto il sondaggio di ciò che pensano gli italiani degli alimenti è che alla fine per oltre il 90% sicuro e genuino è il prodotto acquistato direttamente dagli agricoltori. Quello è l'elemento su cui oggi basarsi, cioè la sicurezza della tradizione, la sicurezza del prodotto che ha la sua fonte nell'azienda agricola, perché l'industria supportata dalla scienza alla fine dà meno garanzie. Un cittadino che va in campagna anche per fare turismo vuole andare in una campagna biologica tenuta bene, dove gli animali siano allevati con le categorie del benessere animale, quindi all'aperto, liberi, dove c'è una biodiversità, chi andrebbe in vacanza in una campagna che magari è piena di pesticidi o con campi tutti uguali perché un'agricoltura industriale. Allora è evidente che questo aumento della richiesta di natura da parte dei cittadini aiuta l'agricoltura a diventare più naturale e quindi a diventare sempre più un elemento di manutenzione e tutela del territorio. Un turismo più consapevole, più attento alla natura, ci aiuterà anche nelle altre battaglie, tipo quella della difesa delle coste contro gli ecomostri, per cercare di recuperare quell'armonia con la natura che è fondamentale per vivere bene. Cioè il nostro obiettivo qual è? Il benessere. Nel senso più largo della parola che significa sì avere dei guadagni, ma anche vivere bene, perché oltre ad avere i soldi è importante, non so, avere aria pulita, acqua da bere, cibi sani. Il paese resta contrario agli OGM, certo la campagna per cercare di dire no ma è una cosa più moderna, un cibo più sano può fare minimamente breccia, ma stiamo parlando di numeri così ampiamente maggioritari che possiamo dire che la stragrande maggioranza dei cittadini non vuole gli OGM e non li mangia anche se li fanno all'estero e quindi fossero qui venduti etichettati e possono essere venduti perché ci sono prodotti dall'estero che c'è scritto viene da OGM e si può vendere, ma gli italiani non li comprano e quindi sostanzialmente è un fallimento in termini di mercato.